Per le asseverazioni la deve fare solo l'asseveratore, quindi solo una figura, o ognuno per le proprie competenze, oltre all'RC professionale, deve anche fare una polizza dedicata? Allora, dovete avere ben chiaro che l'asseverante è il parafulmine. Di parafulmine ce n'è uno solo, il legislatore ne ha voluto uno solo. Quindi, se all'interno di uno studio ciascuno ha le proprie competenze e si occupa di determinate, diciamo, dichiarazioni, poi alla fine si dovrà decidere chi vuole essere il parafulmine e sarà quel soggetto che dovrà stipulare l'assicurazione, che tutelerà se stesso. Poi però, che cosa succede? Ad esempio, studio con due professionisti. Uno farà l'asseverazione sulla base di dichiarazioni che avrà fatto il collega, perché ciascuno ha le proprie competenze. Quindi, ad esempio, chi assevera non ha competenza nella verifica della conformità edilizia-urbanistica e quindi ci sarà il collega che ha fatto queste verifiche. In questo caso, quindi, tutte queste dichiarazioni di dettaglio vengono chiamate attestazioni. Quindi, tutte quelle dichiarazioni che l'asseverante deve fare all'interno dello schema tipo di asseverazioni si chiamano attestazioni. Quindi, succederà questo. Se un indomani l'asseverazione risultasse infedele per una attestazione che non ha fatto l'asseverante, che non ha curato direttamente l'asseverante, ma che è stata fatta da un altro professionista, nella migliore delle ipotesi si attiverà la polizia dell'asseverante, che però andrà a rivalersi sull'assicurazione di chi ha fatto l'attestazione che ha causato l'errore, con errore. E quindi è importantissimo che chi fa attestazioni, soprattutto per professionisti esterni al proprio ufficio, cioè, se faccio l'attestazione per il mio collega che conosco da una vita e con cui lavoro da sempre, è un conto. Se mi metto a fare attestazione a raffica per chiunque me le chieda, è molto importante fare una polizza specifica, anche se non è obbligatoria. Quindi, il decreto con riguardo alle attestazioni impone che il professionista abbia una polizza con massimale idoneo al numero delle attestazioni agli importi attestati. E' stato chiaro da subito che questa polizza degli attestanti possa essere quella di base. Quello che vi raccomando è di verificare per davvero, di avere una polizza, innanzitutto che copra questa tipologia di danno, perché ce ne sono tante che non lo coprono. E poi, vi raccomando di verificare per davvero che il massimale sia idoneo al numero di attestazioni che fate, perché altrimenti il problema è quello che vi ho rappresentato prima. Cioè, se un indomani emergesse che il vostro massimale non è sufficiente a pagare tutte le attestazioni errate che avete fatto, verranno utilizzati i vostri beni personali. E anche in questo caso c'è il medesimo problema che vi dicevo per gli asseveranti. Cioè, questo rischio altissimo di queste attestazioni permane finché permane il decreto. Quando il decreto non ci sarà più, questo rischio non esisterà più. E quindi è molto meglio metterlo su una polizza che ha già un'ultraattività decennale, di modo che me ne posso dimenticare. Cioè, io faccio questa attestazione che, vi ripeto, nessuno mi obbliga a fare perché il legislatore ammette che possa essere quella di base, però io scelgo di farne una apposta per queste attestazioni proprio per avere l'ultraattività decennale che mi consente di stare tranquillo per questo rischio temporaneo. L'altra cosa che accade, che spesso mi viene detta, è ma io faccio la verifica urbanistica edilizia, quindi non lo so quale sarà il beneficio che il cliente finale potrà perdere. E a volte non so neanche se la mia dichiarazione finirà in un 110 piuttosto che no. E il mio consiglio è chiedetelo. Cioè, per ogni attestazione che fate, vi consiglio di chiedere che fine farà e quale sarà il beneficio potenzialmente perso, proprio perché è importante che voi teniate sotto controllo il massimale della vostra polizza affinché sia sempre idoneo.